e sia l'importante vince Selfie Caigo 2017 Stefano Fontana di Santa Maria di Zebio continua a battere le mani rive subito eccomi qua Stefano complimenti grazie mille il tuo grandissimo premio bottiglia di raciotto bottiglia di lugano salame fresco marmellata da fragole e un cartone dei uvi ma io lo so ancora io il vincitore eh si eccomi qua sono tornato non essere invidioso il prossimo vincitore potresti essere tu